Ben ritrovati amici della rete, questo è lo spazio FIPE, torniamo per la penultima giornata dedicata all'informazione, naturalmente noi siamo con la ristorazione, lo spazio dedicato alla ristorazione, ma proprio in questa area abbiamo parlato di diversi argomenti, non solo di ristorazione, abbiamo parlato di cibo, abbiamo parlato di attrezzatura, abbiamo fatto delle considerazioni a volte anche un po' azzardate, ma FIPE ha un po' tutto il coordinamento di queste aziende che sono lo spazio FIPE e questi talk show sono in qualche modo organizzate proprio da FIPE, a noi piace particolarmente il ruolo degli operatori innovativi ed è per questo che oggi abbiamo il piacere di avere una bella società, tutta italiana mi sembra, FCS Italia, le do un microfono per così il presidente Massimo Artorige Giubilesi ci parlerà di questa struttura insieme a Paolo Capurso che rappresenta un po' la parte, mi permetta, di catering, possiamo dirle così in parole, Bunketing Catering, poi abbiamo un bel bravo ristoratore della Valtellina, Piero Ghisla, presidente di ProBiviri, uno scioglilingua questo, allora proviamo a iniziare da Massimo Artorige Giubilesi che credo sia importante partire da specialisti della filiera alimentare, alimentare, produzione, distribuzione, ristorazione, per l'industria anche del benessere. L'ospitalità del benessere, assolutamente sì, si parte dalla filiera primaria che poi viene trasformata, lavorata, distribuita all'ingrosso, al dettaglio, fino ad arrivare alla ristorazione collettiva e commerciale, quindi il famoso RECA, fino ad arrivare all'industria dell'ospitalità e del benessere, anche se qualcuno l'ha chiamata industria, comunque siamo sempre nel macro mondo dei servizi alla persona, in questo caso non di carattere sociale e sanitario come la terza età o come i bambini o come i malati in ospedale, ma siamo rivolti normalmente a cittadini di varietà desiderosi di passare all'aria aperta o al chiuso, siamo ritornati anche al chiuso, con ottimismo e insicurezza nella ristorazione, negli alberghi, nei luoghi dove la convivialità si sposa col buon cibo e con l'accoglienza. FCSI è l'associazione internazionale che ho il piacere e l'onore di presiedere in Italia, che sembra una specie di la scena del crimine legata al food, in realtà è Food Service Consultant Society International, un'associazione senza scopo di lucro, siamo i 1600 nel mondo, in tutti i continenti, siamo 26 in Italia, quindi non è l'elite, siamo pochi e dobbiamo crescere e siamo al padiglione 7, anzi poi invito tutti gli amici a transitare dal presidente del catering e del banketing a livello nazionale di FIPE, dall'amico ristoratore della Valtellina perché c'è buon vino, c'è buon cibo, abbiamo il Carlo Porta che ci assiste sia in sala che in cucina, non c'è nulla di sintetico, no silicone come dicevano gli americani, quindi siamo tutti insieme perché bisogna ritornare a lavorare insieme e soprattutto a fare squadra e a fare gruppo perché l'italiano nell'ultimo ventennio si è un po' egocentrizzato, è diventato molto presuntuoso, tutti pochi che ascoltano, tutti che vogliono. Questa emergenza dicevamo ieri ha fatto un po' riflettere su diversi segmenti, ha portato anche a collaborare, a essere più sistema? Sì, a volte per necessità, diciamo che quando ci sono stati di crisi o situazioni anomale, impreviste, che arrivano addosso e che ci colgono impreparati, credo che l'unità fa la forza e la forza unisce. Questo non vuol dire che abbiamo imparato tutto, sicuramente però mettere le risorse in comune, dicevo prima agli amici qui il cambio generazionale, il fatto che manchino 380.000 persone che lavorano a vario titolo, che una volta ci si lamentava del personale qualificato, dei manager, dei direttori, dei supervisor, oggi mancano i lavapentole. I cosiddetti plunge men, che sembrano una roba stra goduriosa, in realtà sono lavori umili, ma necessari e sufficienti per portare il pulito di igiene anche nella zona cosiddetta di back office, quella che non si vede. Non si trovano? Non si trovano, però abbiamo visto anche nelle giornate di questi giorni che ci sono organizzazioni e che il personale non c'è. Ma la domanda interessante è chi li ha portati via, dove sono andati? Sono scappati via? Io lo so, lo so perché ho fatto una statica. Perché? Gli ha portati via la logistica Amazon, gli ha portati via la logistica DHL, UPS, eccetera. Gli ha portati via l'edilizia. Molti sono tornati a casa e non torneranno, non dico mai più, ma molti. In certe città sono sparite certe etnie addirittura, che erano tipiche della ristorazione. Si è un po' spiazzato. Anche su questo fronte Amazon ha fatto. Sì, tra l'altro erano anche molto bravi come comunità, molto inserita e naturalizzata a tutti gli effetti. Passiamo a Paolo Capurro, Presidente del Banketing, le passo un microfono per capire se anche su questo fronte abbiamo, del noise acceso, credo. Abbiamo delle difficoltà a reperire il personale. Sì, ci sono state, ci sono ancora. Siamo sicuramente sotto organico e a livello nazionale e nella nostra azienda. Indubbiamente i motivi sono quelli detti, cioè la gente in questo periodo di lockdown ha ripensato alla propria vita, alla propria occupazione. Noi abbiamo in azienda nostra un caso emblematico di depressione, di uno chef bravo, che durante il lockdown ha partecipato a un concorso pubblico ed è andato a fare l'operatore ecologico, che con tutta la dignità del lavoro dell'operatore ecologico abbiamo perso una professionalità, abbiamo perso una persona formata che era in grado di guidare una brigata e perché la depressione lo ha preso e ha pensato che nel caso ci fosse un nuovo lockdown non lo sarebbe riuscito a sopportare, eccetera. Si sono persi tanti lavoratori, soprattutto quelli extra, quelli di surroga, quelli con contratti stagionali, occasionali o a intermittenza. Sono quelli che sono stati rapiti, tra virgolette, dall'edilizia, da Amazon. Noi stessi in azienda abbiamo due lavoratori che sono passati, non erano a tempo indeterminato, però sono andati a lavorare da Amazon. Guadagnano un quarto di quello che guadagnavano prima con un'attività che non era a tempo indeterminato ma sono più così, in questo momento si sentono più sereni, più sicuri, quanto meno. È un problema grosso, bisogna rifare diventare attrattivo questo settore perché sennò evidentemente non andiamo avanti. Come si diceva prima, anche il problema di un lavapentole oggi c'è e allora parlare di sicurezza alimentare, se mancano le figure, evidentemente diventa un problema. Come possiamo porre rimedio? Presidente. Ti avventuri con fare sospetto dietro le spalle, così, guardingo. Come possiamo? Allora, diciamo che avremmo dovuto pensarci prima, perché, come dire, gli uomini non sono né le piante né gli animali, hanno bisogno di un ristallo molto lungo, di essere accuditi, amati, formati, addestrati. Bisogna creare le condizioni giuste, di carattere, direi, bisogna creare quello che viene definito in gergo tecnico, il clima di lavoro corretto, che non è lo stipendio, il numero e basta, che chiaramente è importantissimo, soprattutto per i costi che devono sostenere certe persone. Molte persone, quando dalla provincia o da altre regioni, vanno nelle città. Parlo di Milano perché, come sapete, è una delle città più care d'Europa, dove una stanza con un bagno, quasi al limite della dignità, vale dai 400 ai 600 euro al mese. E a volte ne prendono 800, 900 mille. Vero o falso? Anche lì non si capisce. Ci sono lavapiatti che prendono 1.400, ci sono sous chef che ne prendono 1.200. Insomma, diciamo che al di là del contratto nazionale, che è molto tutelante, come ben sanno gli amici e gli addetti ai lavori, perché poi il dramma dell'Italia è il dramma del costo del lavoro, perché io, lavoratore, mi lamento che ne ho sempre pochi in tasca. Tu, imprenditore, ti lamenti perché costo troppo. E questo gap che c'è tra, attenzione, i 1.000 euro al mese presi, come dire, per semplicità matematica, espostati a 14 mensilità e moltiplicati 2.4, credo che siamo alla sedicesima o diciassettesima, con tutti i rati, TFR, eccetera. Ci sono aziende che oggi, ma anche prima del Covid, andavano in banca a chiedere i soldi per pagare la liquidazione, come si chiamava una volta, ai propri lavoratori. Quindi c'è un sistema, a mio parere, ma lo dico da addetti ai lavori, non faccio il ristoratore, ma faccio l'imprenditore per il mondo della consulenza che gravita dentro, fuori, intorno a quello della ristorazione dell'ospitalità. Direi di tutta la filiera alimentare. Certo, giustamente, come dicevi tu, se diventa più attrattiva la piattaforma di Amazon o quella della metro del pesce, c'è un bel problema, c'è un bel problema. Houston, we have a problem. Abbiamo un problema. Dobbiamo fermarci, dobbiamo fermarci. Ma non perché non siamo più attrattivi, ma non perché non paghiamo a sufficienza la gente, è perché dobbiamo riscoprire le fondamenta e i valori di questa professione. Lo dico non facendola, ma la più bella professione del mondo. Quando stai in mezzo alla gente, quando parli di cibo, di vino, quando hai fatto diventare il cibo, il vino, l'ospitalità, le persone, i valori del nostro paese esportati e copiati, anche in modo fraudolento in giro per il mondo, l'industria alimentare esporta 44 miliardi, l'Italian sounding e le contraffazioni alimentari ne valgono almeno 80, ma sono sottostimate perché i veri numeri, non è come andare a contare i birilli a Luna Park. Quindi credo che siamo di fronte a una riflessione forte. Le scuole che devono essere riformate anche all'università, le scuole alberghiere, i docenti devono completamente essere formati, addestrati, bravissimi docenti incapaci di comunicare a volte, quindi di emozionare i nostri ragazzi. La ristorazione è igiene, è sicurezza, è tutela sociale, ma sicuramente il reddito di cittadinanza, parola sbagliata, era forse meglio reddito di inclusione, come fanno in Australia o in altri paesi che sono un po' lontani, ma sicuramente non sono dittatoriali, sono molto democratici, vieni qui, ti devi sostenere per un anno, 50 mila dollari, se no, dice, non posso mantenerti, se no ti troviamo in giro per la strada a fare il delinquente. Secondo, ti sosteniamo se studi o se lavori per sei mesi, adesso non mi ricordo l'ultima legge che è uscita, dopodiché devi... basta. Quindi, cioè va bene, piuttosto facciamo mille euro al mese per sei mesi, perché se in sei mesi non trovi il lavoro, se in sei mesi non ti aiutiamo, o il sistema collassa e barcolla, oppure tu non c'hai voglia. Normalmente è un mix di queste due. Però, vedete, la ristorazione è un sistema bello, ma anche molto complesso, bisogna progettare, essere organizzati, il processo, il prodotto, il servizio, la comunicazione. Ne parlavamo ieri, l'altro ieri, anche con Iginio Massari, al Palliglione 2, dalla bottega all'impresa. Cioè, impegniamoci tutto, ma non, come dire, la scuola degli imprenditori, quella della Bocconi, del Sole 24 ore, che sono istituzioni grandiose, ma l'università della vita degli imprenditori. Molti imprenditori, dopo tre anni, o presunti tali, vanno a depositare i libri in tribunale. Uso una parola retorica antica, ma vera. No, noi dobbiamo dare serenità e fiducia. Non è possibile che il 33,5% delle imprese, per motivi finanziari, non economici, il famoso cassetto che c'è, ma sono in asfissia finanziaria, perché hanno fatto i passi più lunghi della gamba. Quindi, e dobbiamo aiutarle queste imprese, ma dobbiamo aiutarle culturalmente, non con i soldi. Non ti do il pesce, ti do la canna da pesca e ti insegno a pescare. Questo è il messaggio, a mio parere, che va dato. Allora, Piero Ghisla, presidente, ha detto, lo dici? Fipe! Fipe, sonde. Di quale area? Fipe, ristorazione. Ristorazione. Allora, lei da operatore, ha sentito cosa... Amazon ci porta via tutto il personale. Ho sentito. In questo periodo... Non solo Amazon. Amazon è... Vorrei fare... È cominciato il problema quando, purtroppo, in questo anno e mezzo, anno erotti di pandemia, i nostri operatori non erano più sicuri del posto di lavoro. Perché? Stai a casa un mese, stai a casa due, la gente deve mangiare, le famiglie... Quindi tanti sono andati in altri settori, quelli che giustamente hanno detto loro, compreso Edilizia, compreso Amazon. Primo problema. Secondo problema, quello che ha detto il nostro amico, il reddito di cittadinanza. Noi ci troviamo con gente che, non so quanto prendano, 600, 500, 700 euro al mese, sicuri tutti i mesi dell'anno, e quando noi chiediamo, anche per un servizio, un qualcosa, un'estruzione, ci dicono, sì vengo, ma mi paghi il nero. Noi siamo già pieni di problemi, pieni di... Come facciamo? È tutto segnato, come si fa a pagare? È impossibile pagare il nero, anche perché si entra in un circolo che non va bene. messo insieme tutto questo crea il problema della mancanza di gente che è attratta dal nostro settore. Perché tutti insieme noi ci troviamo che è il colmo dell'unia. Siamo nella crisi perché tanti dei nostri, purtroppo, specialmente adesso che stanno arrivando le decime da pagare, perché il rinvio delle tasse, al momento sembra di giocare, ma il rinviare non va bene perché al momento si assomano tutte quando sui conti correnti non ci sono soldi. Il lavoro, chiudono altre attività, altri nostri colleghi, ma il lavoro non aumenta perché anche il modo di pensare della gente, il modo di vivere, specialmente delle famiglie, perché il giovane, il giovane non ha paura, va, c'è problema, entra, tanto dice io sono forte, ma famiglie, eccetera, sono entrati in un modo di pensare che dicono sì vado dove c'è una massa di gente, no, no, perché ci ammaliamo, faccio ammalare i miei figli, è tutto un insieme che in questo momento ci vede penalizzati secondo il mio punto di vista. Beh, comunque stiamo, stiamo in qualche maniera riprendendo. Oh sì, no, allora, vorrei lanciare un segnale, il mondo non si è mai fermato e non si ferma mai. Primo, i ragazzi avanti, avanti, ho detto questo, per fare una cosa, ma quello che dico ai ragazzi avanti, il mondo non si ferma, quando ero ragazzo io mi dicevo è finito, il commercio è finito, invece non è vero, ormai sono vecchio, sono nonno e dico a tutti avanti che il mondo non si ferma. è chiaro che in un momento di crisi quelli che hanno bernoccolo o i bravi emergono, perché la concorrenza nel nostro settore è tutta gente che siamo tutti amici, tra virgolette, ma se io a fianco il mio collega che lavora di più non è secondo me da intelligente guardarlo con invidia, solo guardarlo con un dico, ma perché lavora? devo migliorare anche io il servizio per far sì che i clienti vengono da me e andano a mangiare anche a me insieme a lui e tutti insieme facciamo forza e facciamo squadra per andare avanti. Beh, questo purtroppo bisogna guardare anche l'aspetto politico, però l'aspetto politico in qualche maniera ci deve dare una mano, perché altrimenti non ne veniamo fuori, no? Assolutamente sì, però nessuno di noi fino adesso e non credo neanche per la durata di tutta la conference vuole esprimere negatività o pessimismo. Sicuramente non la nostra generazione, la quale è un po' preoccupata di questa situazione, ma non si fa cadere le braccia sicuramente, anzi credo che abbia dato una risposta molto forte. Certo è che in questo momento, che non è oggi, è da qualche mese dove c'è stato un'impennata, io ho parlato con molti operatori economici, come si chiamano, dalla Sardegna, la Toscana, la Miglia Romagna, tutta la filiera del Friuli, Lignano-Sabbiadoro, dove c'è un albergo, anzi due alberghi ogni numero civico, più o meno, non un numero, un albergo ogni due, due ogni uno, e dov'è la gente che lavora? ho parlato, ho parlato con alcuni stellati, ho parlato con Giancarlo Perbellini, che è mio cliente, mio amico, e di fronte a tutti, l'ha detto, quindi è pubblica questa affermazione, se non ci fosse stato mio figlio, ingegnere gestionale, la sua fidanzata, mio nipote e la sua fidanzata, io chiudevo uno dei ristoranti e la pizzeria, punto, a Verona, punto, e l'ha detto di fronte a 200 persone, esattamente un mese fa, e questo è successo tra agosto e settembre, quindi non è vero, il paradosso è la domanda è alta in questo momento, l'offerta è bassa di risorse umane e quindi non è una cosa che dice, sai, mi manca il latte, vai fuori a prendere, ah, è chiuso il negozio, ci andiamo al discount che ha aperto fino alle 9 o alla città mercato che ha aperto fino alle 10, no, cioè non è un problema, ricostruire questa filiera di persone, di valori, di famiglie, di identità internazionali ormai, perché viviamo in un, giustamente non è questo il luogo, è il contenitore per dire, per emettere giudizi, sicuramente le risorse umane, lì abbiamo tecnologie quasi all'avanguardia, forni con cui si può parlare, abbattitori che ti dicono loro, cioè qui, come dire, come se l'uomo, cioè la macchina progettata dall'uomo ha fatto diventare l'uomo scemo, no? O comunque non più ne è. L'uomo serve sempre per governarle, ecco. Allora, chiaramente non torneremo più al coltello e allo speluchino, guai, oppure al congelatore o alla ghiacciata una volta, ben venga la tecnologia, laddove l'uomo è addestrato e formato, perché la tecnologia non è vero che diminuisce o ammazza il lavoro, lo nobilita anche perché a certe professioni non ci saranno più, fatta una domanda, non è un'affermazione, secondo me no, anzi, molti, quando si chiude un negozio, dov'è l'artigiano? Ecco, non c'è più nessuno che ripara un paio di pantaloni, un paio di scarpe, no? Cioè noi siamo un po' nella mentalità dell'usegetta, no? Cioè invece io che sono un nostalgico delle scarpe fatte a mano, fatte bene, fatte bene, che costano tanto, ma hanno nove anni queste scarpe, trattate bene, quindi non sono io, pur essendo anziano, o quantomeno ho preso un totale, no, io ho 61 anni, lo dicono anche i miei figli, poi quando hanno bisogno di soldi dicono papà però adesso ti vedo più giovane, ecco perché qui abbiamo questi. Vabbè, anche nel banketing c'è lo stesso problema, l'abbiamo detto prima, ma c'è anche molta improvvisazione, anche perché non trovando personale, i familiari stessi, lo diceva prima il presidente, si improvvisano camerieri, aiutanti in cucina, e quindi abbiamo purtroppo delle situazioni improvvisate. Sì, soprattutto ci sono invasioni nel nostro settore da parte di operatori non qualificati, quindi ci sono e nel periodo del lockdown questo direi che ha dato cioè è emerso assolutamente è cominciato col delivery e poi il delivery si è trasformato in una forma di banketing perché poi si assembla e quindi siamo veramente lontani da quello che è la vera il vero lavoro dell'operatore dell'imprenditore del banketing e si improvvisa certamente le situazioni con assemblamento di personale materiali cibo i familiari eccetera eccetera vanno a entrare in un settore che è quello che dovrebbe essere invece in mano ad aziende che sono qualificate che hanno operatori formati e che soprattutto si muovono in un ambito che è assolutamente nel rispetto della legge e per le leggi sanitarie ma anche per tutte le altre come fare come fare allora come fare a far ritornare la passione abbiamo forse l'abbiamo un po' anche non hai fatto un'altra domanda importante allora noi adesso giustamente parliamo di persone di valori di identità umane ma ci sono un sacco di materie prime che stanno mancando proprio su questo come le gestiamo e il cibo non ci si improvvisa non ci si improvvisa con le materie no però il mio amico che ha dato il contributo del 50% ad esenzano per comprarsi la sua casa la casa dei suoi sogni col cantiere fermo da due anni a un certo punto quest'estate gli ha detto ma il covid non c'è più perché non parte il cantiere e non c'abbiamo il ferro o meglio il ferro è raddoppiato e materie prime il cemento e tutto il resto non ti dico poi l'industria automobilistica anzi se qualcuno deve ha in mente di comprare o noleggiare una macchina si sveglia adesso perché te la danno tra i 10 e i 12 mesi siamo fermi con i semiconduttori noi abbiamo ordinato un camion frigorifero e questo bravo e questo non è politica qui c'è una non strategia una miopia una non visione di dare noi abbiamo fatto un errore clamoroso abbiamo fatto l'anticolonialismo cioè mentre una volta siamo stati tacciati non certo noi ma i francesi gli inglesi gli olandesi i grandi colonialisti tant'è vero che gli olandesi materie prime ce l'hanno sempre i francesi pure vengono dalle colonie o escolone noi italiani abbiamo contribuito non da soli a portare fuori dall'Italia e dall'Europa non è questo discorso né europeista né antieuropeista come dire è una constatazione se bianco è bianco se non è un'interpretazione abbiamo portato fuori personale know-how intelligence non milita intelligenza intelligenza ricerca e sviluppo innovazione a tutti i livelli universitari produttivi commerciali relazionali e adesso siamo diventati succubi e sudditi di questi paesi vi do un esempio nessuno di voi si occupa di export bene allora fino a sei mesi fa portare un 40 piedi 40 feet via nave attraversando l'Atlantico dal Portogallo o dalla Spagna verso gli Stati Uniti costava 1800 2200 dollari adesso costa dai 9000 ai 12000 dollari e i 5 carrier shipping carrier quelli che fanno il mercato perché poi hanno fatto il cartello chiaro hanno detto è inutile che vai da lui da lui ecco qui la concorrenza l'hanno ribaltata facendo cartello lo stesso hanno fatto i semiconduttori sul ferro vi dico il legno non è per mancanza no 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 allora i pallet di legno vergine o riciclato le casse di legno con cui il padiglione 5-7 spedisce macchine perché noi siamo il 45% del professional equipment in ristorazione è made in Italy rigorosamente il distretto trevisano il distretto brodenonese è lì che nascono tutte le macchine bene il legno non si trova il legno dei pallet non si trova il legno delle casse con cui spediscono via nave la roba perché sono finiti gli alberi li hanno tirati giù tutti i poverini hanno sbagliato a prendere i pini con l'olio di palma no è che abbiamo migliaia centinaia di migliaia di metri quadri di capannoni di capannoni con legno fermo dicendo vuoi il legno tanto non va male il legno non è lo yogurt quindi chiaro cosa sta succedendo no è chiara è chiara la posizione pensavo per mancanza reale della materia prima no no grazie a Dio in questo momento quantomeno non so se tu sei d'accordo non abbiamo sentore a breve a breve vuol dire sei mesi di come dire avvisaglio di ecchi negativi di materia prima food che mancherà però attenzione il food è una filiera di materie prime ma intorno c'è l'energia c'è il gas c'è il legno c'è il ferro c'è il cemento e c'è l'acciaio attenzione qualche problema è sulla carne credo perché mancano le persone che macellano sì vero perché molti di questi tra cui musulmani pakistani indiani sono tornati a casa però adesso gli americani israeliani tra cui anche grandi investitori tipo Leonardo DiCaprio stanno investendo nella carne in vitro e adesso uscirà anche il pesce in vitro che non è pesce sintetico sono cellule come dire cellule staminali in effetti quella tecnologia lì che sembra un po' da guerra stellare misto coma profondo ti ricordo il film tutti appesi là nasce dalla chirurgia plastica perché quella è l'origine di questa torniamo all'innovazione diciamo tradizionale questo a noi piace parlare di innovazione poi ci siamo un po' siamo andati un po' fuori tema anche se si intrecciano queste innovazioni innovazioni ecco grazie fermati su questo innovazione vuol dire che se al presidente o a lui supponiamo che ci sia qui un collega che ha una piccola catena 4-5 locali il quale starà impazzendo almeno da 2-3 anni col personale non è da oggi però diciamo abbiamo la possibilità di organizzare meglio le nostre cucine fondamentalmente al di là del costo a metro quadro di una cucina lo diciamo così per i non addetti lavori una cucina finita finita quindi pavimenti rivestimenti macchine performanti impianti costano dai 2.000 ai 2.500 euro ma non è solamente il costo questo si chiama investimento dopo c'è il costo di gestione ovviamente di cui la voce principale è il costo del lavoro ecco è inutile fare accanimento terapeutico col food cost perché cioè se no fra un po' daremo le fotografie delle cotolette in 3D visto che stampiamo tutto ma sulla tecnologia sulle macchine che ci permettono faccio l'esempio dei fermaglievitatori o i fermaglievitazione hanno rivoluzionato in positivo la vita di chi doveva alzarsi alle 2 di mattina quando tu dormivi no tu non dormivi perché non hai mai dormito lui neanche che questo lavoro non si dorme mai sempre vigili senti nell'allerta allerta sto il fatto di utilizzare la tecnologia per il benessere che dà per l'azzeramento o la limitazione o il contenimento dello stress lo stress fisico che per te questo lavoro è usurante anche se non è stato mai classificato come tale ok ma le macchine in una cucina fondamentali sono il forno l'abbattitore l'induzione tanto freddo di conservazione il sottovuoto o le atmosfere protettive dopo diciamo che le possibilità sono tante cioè non lavorare più legati allo spazio e al tempo oggi abbiamo tecnologie e abbiamo anche ingredienti funzionali tra cui liposomi in pasticceria enzimi che tra l'altro sono coadiuvanti e non vengono neanche identificati in etichetta che possono azzerare gli additivi migliorando fortemente la conservabilità del prodotto cioè il sottovuoto lo shock termico le cotture a bassa densità di calore che sono alla portata domestica perché tu vai su amazon per citarne uno e compri un bel runner che non è altro che una pentola d'acqua che puoi farti anche a casa con un termostato che ti tiene la temperatura sempre a quei gradi 60-70 normalmente e tu vai a farti un bel giro in Valtellina alla Prica due ore e mezza da Milano cinque ore anzi forse a Prica andate e ritorno due volte e c'è il tuo bello arrostino lì che non ha fatto una piega è calato il 5-6% contro il 35% di una cottura tradizionale buonissimo tenerissimo succulento non ha perso niente vengono chiamate cotture dietetiche no salutistiche o salutari sì perché è stato spennellato d'olio un po' di verdurine finito tutti contenti che bontà che bontà mia nonna diceva è come il burro in effetti è come il burro lo puoi mangiare una volta si diceva il tonno col griscino poi è una stupidata quella lì perché il tonno è duro e marrone non è né bianco né si mangia col griscino non è un materasso perma al fresco attenzione perché sono tutte notizie devianti per il consumatore il tonno per chi l'ha pescato come me o per chi l'ha pescato come voi e ha resistito alle scosse di un tonno da 100 kg pescato a traina sa che la carne del tonno è rosso mattone tendente all'oscuro perché è piena di sangue cioè il tonno è un animale importante non è bianco come il griscino non è il merluzzo o il pangasio meglio lasciarlo lì dov'è posso farle fare una domanda dal pubblico prego grazie mille molto interessante il dibattito volevo praticamente fare una riflessione su un tema che avete trattato un po' prima quindi non so se poi dopo volete andare avanti con quello che stavate dicendo e allora la prima riflessione che faccio quando avete parlato per esempio di Amazon che per dire io c'ho una dark kitchen a Milano e un mio lavoratore che era un ragazzo giovane molto bravo che lui praticamente si dava tantissimo da fare faceva l'aiuto pizzaiolo e poteva tranquillamente diventare un pizzaiolo questo ragazzo qua è venuto da noi e ci ha detto guardate ragazzi io voglio continuare a lavorare con voi però DHL mi ha offerto 1800 euro ok e quindi voi avete parlato del vanno a lavorare per altri a guadagnare un quarto ma nel mio caso mi è successo proprio che sono andati a lavorare per altri a guadagnare 30-40% in più rispetto a quello che gli davamo noi in effetti e con questo volevo anche la riflessione che io vorrei ascoltare da parte vostra fantastico la riflessione che volevo ascoltare da parte vostra era per citare qualcuno tipo Michael Porter c'è la concorrenza che porta all'aumento del valore dell'industria e c'è invece la concorrenza che porta alla distruzione dell'industria io nell'industria della ristorazione vedo molto e a parte una qualche isola di felicità se vogliamo una concorrenza che è quella che porta alla distruzione dell'industria che è quella sul prezzo cioè per esempio a fare un esempio sulla pizza se quello che di fianco a me vende la pizza a 5,50 io non faccio un diverso tipo di proposta per dare del valore diverso ai miei clienti quindi posizionarmi in un modo diverso rispetto alla concorrenza ma semplicemente metto la mia pizza a 5 quello là mette la pizza a 4,50 e così via arriva all'ultimo che poi dopo chiude il locale ovviamente e quindi da una parte c'è il lavoratore che vede delle offerte maggiori in business dove c'è più soldi dall'altra parte c'è l'imprenditore che dice aspetta ma forse vado a fare l'operatore ecologico perché qui non ci si guadagna più niente quindi volevo sapere da parte vostra cosa pensevate di questo è tirato fuori un bel cinema infatti lei era gelosa ti ha interrotto con la voce prima con l'autoparlante allora un po' di anni fa abbiamo fatto in forma riservata nel senso non pubblicata un'indagine su quattro città italiane dove la mia società opera insieme con altri operatori nel settore vostro ed è emerso che alla domanda lei come determina il food cost non sapevano neanche cioè loro quando va bene fanno i costi a consuntivo ma a Milano diciamo a Occi un tanto al chilo ma attenzione non è che parlo del signore degli anelli parlo 2018 tra il 18 e il 19 quindi nessuno sa e si immaginava che però adesso anche un po' per esorcizzare il male basta con sto covid ecco anche perché tra virus e batteri io mi preoccuperei più della salmonella della listeria e di altre cosuce tipiche del catering tipiche di chi fa prodotti gastronomici refrigerati perché la troviamo anche nelle camere bianche anche delle multinazionali è una brutta bestia cresce a 2,3 gradi molto sensibile al calore ma cresce molto bene al freddo però il concetto che tu hai detto è veramente importante la botte perché qui dobbiamo i cambiamenti devono essere fatti qui poi dark kitchen cloud kitchen ghost kitchen sulla scia non c'è neanche la voce si chiamano laboratori non il ristorante senza sala dark kitchen che sembra una roba un po' misteriosa noi vogliamo cucine aperte trasparenti noi non vogliamo fare nero noi vogliamo che i ragazzi stiano bene e crescano però indubbiamente siamo di fronte a un cambiamento epocale di tante cose avremmo potuto dovuto pensarci prima si c'erano delle avvisaglie già dopo Expo si e allora perché perché te lo dico io come dicevano i nostri nonni finché c'è uno scossone non cambi se non ti dicono smetti di fare quella roba lì perché muori tra sei mesi non cambi chiaro? beh questo è successo Paolo Capur ci deve ci deve lasciare una battuta giusto per concludere un po' no giustamente finiamola di parlare di covid abbiamo passato un periodo terribile prendiamolo come ripartenza come spunto e lasciamocelo dietro rivediamo il nostro lavoro riorganizziamolo e cerchiamo di andare avanti in sicurezza perché questo è il valore che non bisogna perdere e di trasmettere quei valori che dicevamo prima servono per rifarvenire i giovani nel nostro settore grazie bene ringraziamo il presidente NBC di FIBE grazie di essere stato con noi e naturalmente continuiamo un attimo ancora con il nostro presidente Giubilesi la nostra chiacchierata allora come le sembra questa situazione come possiamo porre rimedio dal ristoratore ragazzi avanti il mondo non si ferma vorrei fare una battuta stupida da Montanaro i nostri vecchi ci hanno insegnato al prezzo quello che diceva lei abbassare il prezzo non va bene bisogna aumentare il servizio migliorare la qualità e quello che abbassa il prezzo è come quello che abbassa i pantaloni più abbassi i pantaloni più sento il fresco sono Montanaro e mi fermo lì e mi fermo qui signore aria fresca hai parlato attenzione sono Montanaro sono abituato terra a terra non abbassare il prezzo e consigliare agli amici che ripeto lavorano tutti ma sembrano tutti concorrenti ma quando tutti lavorano tutti vanno bene quando uno pensa essere più furbo il giorno prima è nata una volpe più furba di lui va avanti avanti che il mondo non finisce poi lasciatemi dire due cose che non sono come dire statisticamente dimostrabili ma vi assicuro e vi giuro che sono assolutamente vere ovvero quali sono le due categorie di imprenditori del nostro mondo che hanno sofferto di più col covid non parlo di settore merceologico parlo di categorie due categorie quelle che erano già in default finanziario prima che sono esattamente il 50% di quelli che fanno questo mestiere e quelli che non hanno mai avuto una vera e propria identità di prodotto di processo e di servizio cioè c'è il momento delle ciurascarie tutti che aprono una ciurascarie c'è il momento del poke tutti aprono il poke c'è il momento del sushi come dire c'è il momento ma scusate in quella via ci passano 5.000 persone ma non è che continuare ad aprire i locali diventano 10.000 15.000 sempre quelli sono le persone che passano dopo di che comincia la concorrenza quella che dici tu allora alla domanda sai qual è il tuo food cost risposta scena muta seconda domanda come determini il food cost e vado in giro a vedere cosa fanno gli altri nel raggio di 200 metri allora sei scemo non sei un imprenditore come fai il controllo di gestione ah non so gli porto la roba al commercialista ci pensa lui quindi non ti basta la moglie a casa che ti comanda anche il commercialista quindi il commercialista lo paghi per farti dire due volte all'anno barra 3 barra 4 che non stai andando bene il 33.5% delle imprese nei primi tre anni vanno in default finanziario ma come si fa ad aprire un'impresa con un business plan con un fatturato ipotetico studiato sperando che sia vero da un milione e mezzo un milione e otto con 10 mila euro di capitale sociale neppure interamente versato scusate c'è qualcosa che non va e lo start up e il gioco del monopoli vari eventuali impreviste opportunità e l'imprevisto ogni persona sappiamo che costa dai 35 calcolate 35 che non sbagliate fino ai 40 42 mila 45 dipende poi sul fatto che più la paghi più resta su questo avrei da dire perché non è proprio così a questo punto puntiamo sui giovani se devo fare un investimento lo faccio su un ragazzo giovane puntando sui prerequisiti mio nonno diceva che era un agricoltore e l'altro mio nonno commerciante io ho questa doppia anima diciamo un po' col diretti e un po' con commercio che poi tra l'altro uno vendeva l'altro non si capiva bene perché il latte lo vendeva a quello del burro dei formaggi quindi era tutto un network però una volta non si chiamava così sul fatto che giovani identità formazione capitalizzazione delle imprese le nostre imprese sono sotto capitalizzate non si può aprire un'attività con non è un gioco it's not a joke it's not a play è un lavoro serio cioè una cucina costa 2500 euro metro quadro anche un laboratorio 100 metri quadri sono 2 milioni e mezzo non scherzare 250 mila euro ah no ma io pensavo di meno eh eh sì nei fil col cartongesso con l'IKEA poi dopo mettiamo dentro un disco attenzione questa cucina si autodistruggerà dopo 6 mesi come Mission Impossible cioè capisci che c'è qualcosa che non va non è un gioco bisogna creare una scuola di imprenditori perché i giovani non devono abituarsi a redditori di denuncia ma a diventare imprenditori un attimo solo allora un attimo solo eh dottor Sbraga che dobbiamo fare un'operazione di questo tipo possiamo anche farlo vedere a favore di camera ecco vedi Luciano che ci conosciamo da vent'anni con la mascherina sembrava Giulio invece Luciano ecco saluto Massimo no mi metto mi metto qua saluto no 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 ma dai facciamo un cambio di poltrona allora saluto Massimo saluto anche il presidente Ghisla io eh su questo tema sono molto sensibile il tema della eh dello sviluppo delle competenze manageriali peraltro come Fipe noi già da anni abbiamo avviato un progetto che si chiama Fipe Business School proprio per sostenere questa iniziativa però mi preme dire dire fare una considerazione aggiuntiva che non smentisce quanto è stato detto ma anzi credo che eh tocchi il problema eh affronti il problema da un altro punto di vista e aggiunga qualcosa a quanto è stato detto io credo che occorra sicuramente gestire le imprese in modo imprenditoriale peraltro ritengo che ce ne siano molte che vanno in questa direzione perché ci sono imprese che stanno sul mercato da tanti anni e quindi vuol dire che hanno qualcosa poi magari si può migliorare e questo va senz'altro fatto sappiamo che c'è una mortalità delle imprese abbastanza alta dopo un anno eh ancora più alta dopo tre anni e si arriva fino al 60% a cinque anni allora qui si apre un altro discorso e questo tasso di mortalità sta crescendo nel tempo e a prescindere dal covid che cosa significa? Significa che la ristorazione è un settore trendy un settore eh appealing come possiamo dire per cui eh tutti pensano che sia un settore facilmente abbordabile accessibile e a volte si commettono due errori da un lato c'è l'aspetto dell'improvvisazione mi improvviso esercente mi improvviso ristoratore o esercente di un bar pensando sapete che i ragazzi se vi andate sulla rete almeno qualche tempo fa e mettete che cosa volete fare da grandi dicono il barista perché pensano che è il posto dove si incontra gente no? c'è la relazione e così via allora questa cosa da un lato l'improvvisazione pensando che sia e dall'altro io vedo anche un altro elemento negativo che si è affacciato negli ultimi anni che la definisco così in modo forse banale è la torsione finanziaria cioè di ritenere che questo sia un settore dove la componente finanziaria dell'investimento prevalga su quella del progetto di vita dell'imprenditore ecco a mio parere non bisogna commettere nessuno di questi due errori quello dell'approssimazione e quello del settore che viene come dire valutato da un punto di vista squisitamente finanziario entro in quel settore perché faccio un investimento che sarà remunerativo no questo è un settore dove bisogna dove le persone che investono devono starci dentro non lo dico io in modo così banale ad esempio Enrico Bartolini che è il nostro imprenditore pluristellato che tu conoscerai senz'altro ha sostenuto più volte questo il tema di entrare nel settore per viverlo come progetto di vita e non solo come investimento finanziario perché non è sufficiente si rischia di sbattere il muso ecco allora se mettiamo insieme tutte queste cose quello che diceva Massimo avere più competenze manageriali e queste vanno rafforzate con l'impegno di tutti perché è un settore dove ci sono 280.000 imprese è un settore difficile da gestire anche con un piano programmatico di sviluppo di corsi di formazione ci mettiamo i decenni allora bisogna accelerare con lo sforzo di tutti dall'altro ecco la raccomandazione a non far credere che sia un'attività semplice della serie apri metti 5.000 euro abbiamo visto Massimo tante volte anche apri una gelateria con 3.000 euro apri la gelateria mia mamma faceva bene le cotolette apriamo una cotoletteria mio papà faceva il caffè e via tutto così a casa con la moca attenzione lo faceva esatto c'è questa cosa diciamo questa messaggio sbagliato un messaggio sbagliato che a volte vediamo anche quando si approccia la tecnologia se fate un giro nei padiglioni di questa di questo Oste 2021 vedete che nelle demo che fanno alcune aziende ma magari forse anche abbastanza diffusa la cosa davanti al forno connesso iperconnesso digitale eccetera gli dicono guarda basta tu devi solo schiacciare un tasto fa tutto da solo allora si fa credere perché dietro c'è un'impresa complessa noi abbiamo fatto una guida di business sulla ristorazione di oltre 300 pagine e che voglio dire non tocca neanche tutti gli aspetti del business ma è un'attività estremamente complessa allora questo è il messaggio che deve passare va fatta con come progetto di vita con consapevolezza bisogna fare i business plan bisogna farli in modo veritiero e aggiungo un'ultima considerazione sul tema del prezzo il tema del prezzo è un tema molto delicato e il fatto che questo sia un settore che cambia i prezzi mediamente ogni 16 mesi come l'intervento sul listino e che ha sempre timore di toccare i prezzi anche quando i costi aumentano perché ha paura della reazione ma soprattutto perché perché non ha la bussola non ha la strumentazione di bordo per capire che cosa succede se tocco il prezzo e quale prezzo devo toccare questo è il punto critico non è il se voi avete aziende se voi fate parlate con aziende che hanno il controllo di gestione sanno che cosa vendono sanno che se toccano del 5% quel prezzo hanno la prospettiva di avere un ricavo superiore del quelle sono aziende che intervengono sui prezzi non hanno paura gli altri hanno paura e siccome nella maggior parte dei casi c'è questo fenomeno di scarsa conoscenza in tempo reale di quello che accadrebbe se aumento il prezzo del caffè di 10 centesimi io l'ho detto già sono in grado di capire se domani dopo domani tra tre giorni ho venduto meno caffè o tutto è rimasto uguale perché se tutto è rimasto uguale vuol dire che la mia scelta è stata una scelta giusta non dimentichiamo il problema plastica che secondo me non è ancora entrato nel nostro DNA quando i materiali a base plastica sul monouso saranno completati perché adesso l'Europa mi sembra un anno di tempo per lo smaltimento produttivo e delle scorte di cui tutti i magazzini sono pieni ma poi chi si assorbirà il costo anche il problema della ristorazione collettiva delle scuole che fanno uso di monouso ospedali terza età tutto il packaging basta guardare la patumiera la plastica dopo un giorno è alta così quindi attenzione perché poi quei costi lì qualcuno comincerà lo scaricabarile c'è legge per forza allora devi prenderlo quindi questo l'aria fresca bisogna avere un controllo quando si sta in un questi sono tempi dominati dall'incertezza a prescindere dal covid dove le cose cambiano e la domanda è fluida qualcuno direbbe liquida e se tu non hai la strumentazione di bordo sei come il pilota di un aereo in mezzo alla nebbia che senza la strumentazione di bordo non sa dove andare allora avere i cruscotti di controllo anche in una piccola impresa è fondamentale ecco io credo di non dover raggiungere nulla grazie grazie dottor Sbraga mettiamo quella slide sulla sicurezza alimentare che l'abbiamo un po' trascurata ecco vogliamo Presidente Giubilesi raccontare un po' questo Presidente Giubilesi c'ha poco da dire può solamente leggere una robina che nel nuovo regolamento 2021 il numero 382 quello che viene definito pacchetto igiene 2 in realtà non lo è perché è il primo del 2004 integra ciò che fu scritto nell'852 sui prodotti alimentari e nell'853 sui prodotti alimentari di origine animale cioè la la formazione alla sicurezza alimentare la cultura della sicurezza alimentare io non posso più tollerare che gli imprenditori medio piccoli del food e non mi riferisco alla ristorazione alla filiera produttiva distributiva non sentano mai il bisogno di andare a scuola non ci hanno mai tempo no? perché noi per noi la formazione è rimasta uno stereotipo legato all'obbligatorietà l'HCCP la sicurezza sul lavoro sicurezza sul lavoro più dell'HCCP perché è penale punto quindi un paese non può andare avanti con l'obbligo no? cioè se non lo fai ti do la multa ok? ma deve sviluppare una cultura di impresa che passa anche dalla formazione alla sicurezza alimentare impegno da parte della dirigenza conformemente al punto 2 e di tutti i dipendenti alla produzione e alla distribuzione degli alimenti quindi non è lavati le mani piuttosto che non lasciare il prosciutto fuori dal frigorifero è un discorso mi fai vedere anche la prossima che è ancora più bella? responsabilità della direzione al di là delle responsabilità oggettive civili amministrative penali insolito come si dice dell'imprenditore ecco stavolta Luciano l'Europa se ricordate di scrivere che l'attuazione deve tener conto delle dimensioni dell'impresa perché il nostro regime legislativo europeo soffre chiamando tutti industria alimentare diciamocelo per cui anche a volte troviamo atteggiamenti da parte dell'autorità competente che sono o superficiali verso alcuni o più vessatori e restrittivi verso altri la natura e le dimensioni dell'impresa la natura vuol dire che si deve fare ancora una volta l'analisi del rischio che è cosa importantissima l'ultima c'è un altro concetto importante o forse era quella di prima no quella prima di quella di prima finito qua no dov'è il mio amico in cabine di regia ah ecco perfetto no quella dopo il mondo ha fame si di tecnologie si di tecnologie di tecnologie il mondo ha fame no anche il mondo del lavoro ha fame di risorse umane non affamate ma che hanno fame di sapere di conoscere che hanno passione che non non trascurano il sacrificio sono abituati non votati alla morte ma abituati al sacrificio perché questo è un lavoro che è stato per troppi anni o forse decenni come dire raffigurato in un modo che si guadagnava tanti soldi e si lavorava poco e c'erano anche molte bella gente intorno ok ok il famoso è come dire confondere il peso netto il peso lordo con la tara ok ciò che c'è nel cassetto non è il guadagno devi ecco perché a volte non si pagano le persone in maniera adeguata perché si distolgono attenzioni economico finanziarie quindi impegno risorse e concentrazione non sulla visione del sistema e sull'organizzazione dell'azienda ma su altre cose che nulla centrano con un lavoro serio e sano posso chiedere io non voglio rubarti il mestiere ma non so se vado fuori tema non sono un tecnologo alimentare abbiamo Massimo Giubilesi e credo che l'occasione vada colta per porre una questione che è molto sensibile nel mondo della ristorazione e mi riferisco Massimo al tema dell'asterisco allora noi sappiamo che il freddo è uno strumento importante per gestire i prodotti alimentari ma anche per gestire le aziende in modo corretto senza avere quell'incertezza di cui parlavo prima ecco a proposito dell'asterisco l'asterisco sul prodotto surgelato volevo chiederti qual è il tuo punto di vista e quindi non ci siamo messi d'accordo quindi in grande libertà allora si più preciso ecco allora noi sappiamo che non c'è una norma fammi una domanda a quelle toste tipo se tu riscrivessi quella legge no la legge perché sappiamo che non c'è la norma ma c'è un orientamento della giurisprudenza infatti la parola asterisco esatto se tu giri asterisco non viene fuori da esperto oggi tu te la sentiresti di dire che un prodotto cosiddetto fresco è migliore sempre di un prodotto surgelato assolutamente no allora il congelamento diciamo domestico o professionale che sta sotto la surgelazione dal punto di vista funzionale tecnologico merciologico nutrizionale e igienico sanitario è sicuramente una tecnologia vincente ma non da adesso da mo che mo oltretutto è l'unica tecnologia di conservazione che non prevede additivi quantomeno non li chiama a sé per motivi di necessità vedete qui sono tutti gli additivi tutti autorizzati quantità quindi possiamo fare un uso ma se io uso l'uso sapiente del freddo in modo tecnologico può sicuramente darmi la certezza di una qualità in senso lato che è superiore al prodotto fresco quello che noi chiamiamo il gambero rosso di Mazzara del Vallo pescato in Nassa a 300 metri di profondità con il peschereccio che sta fuori un mese un mese e mezzo quattro settimane quelli addirittura al limite delle acque territoriali pure 5-6 settimane il gambero dopo 5-6 settimane non è fresco certo che no viene congelato a bordo oggi diciamo abbattuto a bordo allora lì va bene quel gambero di notte vola vola con l'elicottero o con l'aereo o il giorno dopo col camion a 75-80 euro al chilo all'ingrosso sul mercato di Milano ma non è che la barca fa avanti e indietro perché se no gli costa più il gasolio del gambero chiaro quindi il freddo è dopodiché ecco l'853 grazie all'anisakis qui bisogna dirgli brava anisakis che sei tornata alla ribalta quindi speriamo che anche il covid ci nasce qualcosa se non altro oltre che al brutto ricordi anche qualcosa di positivo l'anisakis lì attenzione lì non è più congelamento è un trattamento di bonifica sanitaria obbligatorio quindi c'è lo so perché lo so che volevi arrivare lì quindi vi dico una cosa io scherzosamente ma mica tanto oggi l'asterisco lo metterei sui freschi però mi devi convincere forte che è fresco e poi facciamo un bel convegno dove dicesi fresco un prodotto che no che vita deve avere no panettone fresco quanti giorni bravo il panettone fresco 70 giorni 90 giorni non è fresco no ma guardi che l'ha fatto il maestri ho capito ma non è fresco no cioè ok lo yogurt è fresco ma fresco è freddo è refrigerato la gente ci mette dentro anche la filiera corta l'ho preso di vicino l'ho tenuto nel baule della macchina però non si capisce bene questo concetto sono difficili guardate che è come definire la parola qualità quello di qualità niente tutto niente va declinata va contestualizzata comunque assolutamente beh noi abbiamo già scritto insieme delle cose eh bravo ok allora dico anche una cosa togliamo l'asterisco dal listino ma assolutamente sì anche se abbiamo in particolare due corpi nostalgici diciamo dell'autorità competente uno più nostalgico dell'altro quello più nostalgico è anche anche un po' meno preparato dal punto di vista tecnico scientifico e giuridico è il corpo di polizia nonaria per chi ce l'ha che non è una sfortuna è un'opportunità però è nata in certi momenti con la nona con i mercati quelli rionali con il mercato centrale sono finiti di quei tempi anche loro devono andare a scuola e l'altro è che invece mi preoccupa di più perché sono molto preparati e cominceranno a fare dei danni è il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in particolare il servizio di repressione frodi che si chiama ICQRF istituto centrale per la qualità e la repressione delle frodi perché io più che il surgerato che ce lo smarchiamo con due o tre frasettine di che non sono per garantire la qualità noi abbattiamo è una frasettina un po' diversa ma sta in piedi giuridicamente perché è stata validata in tribunale in dodici sentenze quindi sono tutte passate come silenzio muto anche coi periti anche coi PM io mi preoccuperei di più degli e-commerce perché ce n'è uno su dieci che sono la norma di legge dal punto di vista dell'informazione dei consumatori non è questo il luogo quando parli di e-commerce parli anche di delivery assolutamente sì però parlo di etichettatura perché il ministro della politica agricole è l'organismo primario sulle informazioni ai consumatori quindi tutti l'1169 i siti di e-commerce devono informare come se fosse un prodotto preimballato l'unica cosa che non mettono per ovvi motivi è il lotto il lotto è la data di scadenza ma l'etichetta nutrizionale e la dichiarazione nutrizionale dei prodotti alimentari ci deve essere sull'e-commerce non lo dico io lo dice il regolamento punto dopo di che c'è quell'altra cosa che dici tu allora facciamo cominciamo a fare degli speech monotematici dedicati a perché la gente una cosa come diceva il presidente un conto è l'aria fresca ok ma non dobbiamo farci trovare impreparati è anche una questione di dignità secondo me da parte delle categorie afferenti a confcommercio cioè tutte le categorie che professano questa meravigliosa professione professione alla professione sì stare in mezzo al cibo ma il cibo non è solamente opportunità e valore è anche minacce a volte chiaro chiaro e dobbiamo combattere l'ignoranza la non conoscenza va gestito da professionisti è proprio un'opera culturale in italiano è intraducibile in inglese educational program è un programma educativo che comincia e non finisce mai perché facciamo fatica noi a dette i lavori che più studiamo e più scopriamo ti addormenti un po' di più ti esce un regolamento nuovo ti addormenti un'ora in più e scena circolare poi ci sono i pareri poi ci sono gli orientamenti poi ci sono i draft cioè i documenti preliminari che ti fanno capire cosa uscirà l'anno prossimo adesso stiamo aspettando sei regolamenti nuovi da qui alla primavera e tutto ha ripercussioni anche dice ma che me frega ma io c'ho il baretto faccio il salumiere c'ho 60 anni lasciatemi vivere che non mi sono mai fatto una feria in vita mia no? se puoi alzarti in piedi e avvicinati grazie ecco perché i microfoni dopo saltano perché buttano dentro l'acqua buongiorno ok allora avete parlato un attimino di tecnologia dei abbiattitori sottovuoto e tutte queste tecnologie che comportano a migliorare il prodotto nella ristorazione come ha detto mio socio Anthony prima che noi abbiamo una dark kitchen che è un laboratorio nascosto in zona Loreto è una pizzeria comune ma ottimizzata al 4.0 con tutto quanto ad oggi stiamo pensando stiamo anzi non stiamo pensando stiamo valutando di aprire il secondo punto vendita e arrivare entro la fine del 2023 arrivare a 5 punti vendita e coprire tutta Milano ci stiamo ponendo molte domande e siamo andati a fare un giro intorno a questa bellissima fiera dove ci sono tante tecnologie e una delle domande che ci stiamo ponendo è tengo tanti risposte tengo il pizzaiolo l'aiuto pizzaiolo quello che condisce quello che incarta o me ne vado a cercare la tira palline me ne vado a cercare il forno a tunnel che ho bisogno solo di una persona perché quello che come ha detto il mio collega per il discorso di costi che per Dio si può arrivare però come lei ha detto sapete il food cost si lo sappiamo abbiamo proprio creato c'è proprio un excel dove noi inseriamo grammature e tutto quanto e sappiamo quanto ci costa sappiamo quanto ci costa un rider per farci la consegna noi guardiamo tutto però arrivo a un certo punto dicendo ok siamo cinque soci ci stiamo lavorando il progetto ormai da due anni e mezzo io non ho visto una lira perché ci credo nel progetto e voglio creare una nuova un modo nuovo di fare il delivery della pizza non che la pizza ti arrivi a casa noi non pretendiamo di fare la pizza migliore che puoi mai mangiare ma la miglior pizza del delivery quella che puoi mangiare a casa utilizziamo ad esempio dispositivi come hotbox che magari dopo ne possiamo parlare va benissimo però quello che cerchiamo di fare è non creare la solita pizzeria però guardando i costi di gestione e tutto quello che abbiamo diciamo non è che ne vale tanto la pena perché siamo cinque persone che stiamo dietro a questa ristorazione senza guadagnarci dei soldi cercando di provare a vedere almeno di mettere la pizzeria in break even ci siamo riusciti dopo otto mesi ma è stato molto difficile e ci sono voluti cinque persone con cinque capacità diverse c'è chi ha guardato il master plan chi ha guardato il pnl chi ha guardato la parte marketing chi ha fatto tante cose non puoi un ristoratore come avete detto voi inizialmente dicendo un ristoratore si deve comunque guardare prima fare il master plan ma mettere una persona che anche se non vuole essere improvvisata ma mettere una singola persona fare una ristorazione dove un fatturato di mezzo milione 600 mila cioè 600 mila ma magari anche un milione non basta per coprire le spese di cinque menti bravi magari laureati come sono io e i miei altri soci dove ci siamo ritrovati in un tavolo per scherzo facciamo questa dark kitchen ci abbiamo provato ci siamo riusciti però c'è tanto tanto lavoro dietro e ci vuole tanti anni di investimento proprio di voglia perché ho fatto il fattorino ho fatto il pizzaiolo ho fatto di tutto ho fatto anche i corsi e tutto quanto però dici ok io lo posso permettere perché riesco a farlo perché siamo cinque soci non abbiamo problemi economici perché abbiamo altri lavori da fare e ci stiamo dietro un ristoratore che magari 2000 euro li bastano per vivere ma se ha la famiglia lo sappiamo bene non si riesce fa la conduzione familiare è difficile arrivare a questo punto allora la domanda che vi pongo è si può creare un'associazione insieme a Fipe dove vai a insegnare a questi ristoratori perché è un discorso di ignoranza perché un ristoratore magari dice si me lo faccio io ma magari cerca su internet e dice come fare la vera ristorazione trova una marea di robaccia perché internet è piena di robaccia perciò di trovare un modo di insegnare e spiegare al ristoratore come fare la vera ristorazione bene vogliamo la domanda la domanda la considerazione che hai fatto ne hai fatte più di una ne hai fatta ma poi alla fine c'è questa domanda credo che sia lo snodo in effetti noi vogliamo costruire momenti di formazione sulla gestione manageriale dell'attività non è un caso che abbiamo costituito questa Fipe Business School peraltro mi pare che in giro ci sia un catalogo di corsi a 360 gradi come si dice di solito quindi per dire che abbraccia un po' tutte le materie le competenze necessarie per avviare un'attività se ci sono persone che vogliono mettere la loro competenza a disposizione di questo progetto benvengano ma tu hai messo il dito diciamo su tante piaghe il fatto che il settore è un settore difficile anche dal punto di vista della remunerazione dei fattori produttivi quindi ecco perché è importante che venga vissuto come un progetto di vita e non solo come un progetto di carattere finanziario perché questo qui nella ristorazione non funziona poi è chiaro che uno può avviare una start-up costruirla e trovare qualcuno a cui venderla però se la logica resta quella finanziaria non funziona non funziona perché l'avete vissuto sulla vostra pelle avete visto quanto è difficile trovare e fare margini perché questo è un settore labor intensive noi possiamo ingegnerizzare alcuni processi possiamo eliminare alcune alcune parti dell'attività affidata all'uomo se penso per esempio guardando in giro a tutto il sistema di lavaggio dei piatti dei bicchieri anche di preparazione o meglio di ottimizzazione delle preparazioni perché con l'abbattimento con il sottovuoto con l'atmosfera modificata puoi ottimizzare i tempi di produzione lavorare in alcuni momenti conservare e poi per chi fa attività di ristorazione tradizionale allora tutto questo va fatto però va fatto sapendo che ci devi stare dentro non puoi pensare di affidarlo a un altro fai l'azionista di una società tu metti un po' di soldi e poi c'è qualcuno che pensa a tutto purtroppo o forse anche un bene che non sia così questo è un settore che va vissuto ecco io non so Sauro una battuta finale se mi permette il presidente Massimo sicuramente diciamo i laboratori cioè le dark e le ghost hanno un vantaggio rispetto alla somministrazione che non hanno la somministrazione sono più vicine all'industria alimentare dal punto di vista e devono essere metodologico cioè come dire la domanda è mica devi lavorare in espresso o in semi espresso tu la pizza decidi tu se farla a metà cottura già farcita no se usi l'azoto liquido per raffreddarla che io ti consiglierei se dovessi progettare la tua dark ti dico anche con gli abbattitori di ultimissima generazione ma se voi vedete assaggiate la roba raffreddata in azoto liquido è una roba che poi è in forma gassosa è liquido quando è nel vaso di Dewar ma quando esce è gassoso ma non sulla pizza sui frutti di bosco che sono le robe più vulnerabili e delicate eppure gli fa bene pure il virus dell'epatite perché l'azoto è devastante sul virus quindi attenzione chi ha il covid lo diciamo a voce alta non si metta dentro una roba azoto liquido perché sono 143 gradi sotto zero quindi il covid muore ma muore prima lui però sul dark tutto ciò che voi avete la fortuna di essere svincolati dallo spazio e dal tempo il vostro fattore dominante è il tempo tra comanda e consegna e il mantenimento della catena o del freddo o del caldo perché la pizza ha un po' di problemi quando comincia a inumidirsi ecco questo vale per tutti gli alimenti in particolare per questo però un ragionamento da come hai detto oggi state producendo in maniera assolutamente tradizionale sì abbastanza bravo tieni la mascherina tieni la mascherina ok sì tradizionale fra virgolette abbiamo utilizzato comunque dei forni di ultima generazione che non abbiamo tanti problemi abbiamo creato comunque un percorso all'interno del laboratorio dove abbiamo chi fa la logistica manda 3-4 consegne una volta il pizzaiolo c'è chi tira le palline sa quante palline così e va avanti come la catena di montaggio Cristian Cristian 4-5 anni fa no 40-50 era pensabile attenzione vi sto raccontando non un aneddoto storia di vita ospedaliera era pensabile che tu potessi fare un petto di polle o di tacchino cotto in sottovuoto senza additivi che aveva una shelf life validata da laboratorio certificata di 37 45 giorni ovviamente a 0-3-0-4 fantascienza quando lo raccontavi la gente diceva ma va che dopo 3 giorni puzza già no puzza puzzi tu se non fai la doccia lui non puzza di sicuro il sottovuoto ha rivoluzionato ma è così è così difficile capire che praticamente la CCCP ti guarda e dice non servo più perché metti dentro una cosa in un sottovuoto e non la tocca più nessuno la puoi buttare contro il muro la puoi mettere nel frigo vicino all'uovo che se non erro non esce proprio dal naso della gallina esce dall'altra parte anche quelli nostrani col ciuffetto quelli che si prendono a filiera corta come si dice quindi in condizioni anche estreme l'importante è che tenga una catena del freddo ragionevole ma anche se ha dei piccoli sbalzi col tipo di trattamento che ha avuto con la protezione di un sacchetto barierato tu hai sempre a portata di mano un petto di pollo che non è più crudo non è ancora proprio cotto aspetta il suo destino vuoi i bocconcini vuoi gli straccetti facciamo un bel panino da street food ci faccio il vitello tornato vitello pollo che sia è lì quindi hai non un semilavorato hai un valore esagerato di un prodotto di cui tu hai deciso il destino messo sotto ricettazione quindi non a lunedì 80 gradi al martedì ecco il metodo industriale metodo industriale cura artigianale attenzione al cliente quando l'artigianato perché questo è artigianato sarà comprenderà ma soprattutto applicherà però prima di applicarli deve farli propri come concetti come valori altrimenti se non c'è il messaggio che passa da qui non passa da qui e non va da nessuna parte è una scossa questo è diciamo che l'artigiano deve essere anche un po' industriale per innovare come metodo guai ma perché abbiamo fatto passare un concetto sbagliato dell'industria l'industria era quella degli additivi l'industria era quella che dei prodotti no 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 ognuno stia a casa sua ma dal punto di vista metodologico e concettuale se oggi la ristorazione e l'artigianato produttivo è arrivato dove è arrivato è grazie alla tecnologia dell'industria che si è fatta piccola ed è stata miniaturizzata come vediamo Dost grazie assolutamente grazie ai nostri ospiti di essere stato con noi noi ci rivediamo nel pomeriggio il presidente è stato eccezionale perché ci siamo improvvisati non preparati abbiamo detto e ci siamo confrontati con gli operatori l'hai detto all'inizio non ho fatto io ho lavorato la notte per fare la presentazione ma la mettiamo agli atti poi perché secondo me il contributo poi resta non è vero che la gente non legge magari questo non è il contesto giusto non sono lezioni sono dibattiti gente che che potremmo mettere in rete credo vuole crescere che si confronta e poi dobbiamo aprirci sia agli imprenditori che ai giovani imprenditori perché a un certo punto bene grazie a voi linea allo studio ciao ragazzi guarda che vengo a trovarti grazie a tutti